Dopo la denuncia apparsa sulle pagine del carrino di oggi, siamo andati anche noi a verificare le condizioni del Parco Bucci, imbattendoci in un paio di spiacevoli episodi. Durante il nostro sopralluogo nell'area verde per girare le immagini che vi stiamo mostrando, infatti, siamo dovuti intervenire personalmente per bloccare alcuni ragazzi rom sorpresi oltre gli steccati di legno con in mano sei porcellini d'India, ragazzi che alle nostre grida hanno lasciato cadere gli animali e sono scappati lungo i viali del parco, salvo poi essere bloccati da alcuni volontari che, in aere di quanto appena è successo, hanno fermato i ragazzi perché è colpevole di aver utilizzato la capannina davanti ai giochi per i bambini come bagno pubblico. Sono stati infatti gli stessi volontari di accompagnarci nuovamente all'ingresso per mostrarci le condizioni della capanna, appena finita di pulire e nuovamente riutilizzata per scopi fisiologici da parte dei ragazzi. Il tutto a qualche decina di metri di distanza dai bagni pubblici. Spiacevoli episodi che, come ci raccontano i volontari, si ripetono ormai da anni con protagonisti non solo le famiglie di Roma. Ci sono infatti anche alcuni bracconieri che rubano le uova dai niti degli uccelli. Così come si ripetono da alcuni anni i problemi di manutenzione dell'intera zona verde a causa delle disagiate condizioni economiche delle casse del comune Manfredo. Il guaio maggiore, ci raccontano sempre i volontari, è l'acqua stagnante, soprattutto negli isolotti al centro del lago. Lì il motondoso dell'acqua, l'operato degli animali, col tempo hanno portato via quel po' di terra che formava alcune colinette utili al deflusso dell'acqua. Ora che la colinetta è scomparsa, l'acqua oltrepassi i sassi che delimitano gli isolotti e non riesce più a uscire, rimanendo imprigionata dentro il cerchio di pietra e andando a ristagnare, diventando quindi una delle cause di malattia e di morte dei vari animali. Ipotesi, comunque, respinta dagli addetti del comune di Faenza. Poi ci sono i problemi di alcuni predatori, come i gabbiani, una volta assenti all'interno del parco, capaci di mangiare qualsiasi cosa. Se riescono a nutrirsi di pesce, va tutto bene, continuano a raccontarci i volontari, ma se non riescono a pescare, le loro prede diventano i cuccioli degli altri uccelli o le loro uova. Tutti i problemi che i volontari girano costantemente al servizio giardini del comune, il quale purtroppo ha una capacità di azione limitata. Talmente limitata ci racconta invece Giorgio Palli, lo scultore che ha realizzato Ecappal, la scultura ricavata dall'olivo una volta al centro della rotonda sulla via Emilia ed ora installata all'ingresso del parco Bucci, che egli stesso deve occuparsi della manutenzione della grande aiuola attorno alla propria opera d'arte, perché dal comune non riescono a far fronte all'impegno. E nel frattempo, dal comitato WWF Faentino, segnalano come gli alberi di Piazza delle Erbe del parcheggio e del cimitero siano stati completamente circondati da una nuova asfaltatura, ignorando le più elementari nozioni di manutenzione delle piante, che prevedono un aiuola intorno al tronco per consentire la reazione del terreno e l'assorbimento dell'acqua.